da chi vuoi. Allora, intanto c'è a dire questo, che la prima regola fondamentale per ottenere dei risultati molto importanti, per ottenere dei risultati validi nella seduzione, come dicevo è quella di definire il target, ma prima di tutto agire su se stesse. Questo mutatis mutandis vale anche per gli uomini, perché diciamo in realtà anche gli uomini possono sfruttare questi consigli e anzi sono veramente utili e consentono anche agli uomini di poter raggiungere anche dei grandi risultati da questo punto di vista. Il primo punto siamo noi stessi, perché noi siamo come un prodotto, diciamo dobbiamo metterci in gioco, soprattutto per noi stessi, quindi imparare a curare il proprio aspetto è fondamentale, perché più ci sentiamo a nostro agio con noi stessi, sia che siamo uomini, sia che siamo donne, meglio ci sentiremo e appariremo desiderabili, diciamo, agli occhi degli altri fondamentalmente. Questo credo che sia un punto fondamentale, ma dobbiamo farlo soprattutto per noi stessi, quindi imparare, diciamo, l'alimentazione, imparare ad avere un'alimentazione corretta, imparare a non ingrassare come delle zampogne, imparare a prendersi cura di se stessi è fondamentale. Secondo punto è quello di renderci conto, ma introiettare veramente il fatto che la persona che ti interessa, se non va bene, devi scattarla, perché non è l'unico sulla faccia della terra. Questo devi tenerlo presente, perché più ti accanisci su una situazione, più diventerai ansiosa e meno possibilità avrai di conquistarlo. Ovviamente prendersi cura di se stessi vuol dire, diciamo, avere un'alimentazione sana, curare la propria femminilità o la propria mascolinità, se sei maschio, fare un'attività fisica, che tra l'altro, oltre a tenerti in forma, aiuta la produzione di endorfine, quindi a darti una situazione di benessere. È molto importante poi definire, diciamo, come dicevo, il target che tu vuoi conquistare. Il target va definito sempre a tavolino, non dobbiamo, perché gli errori che fanno le persone è quello di lasciarsi trascinare dagli istinti e dalle emozioni. Questo è un grande errore. Quando tu vuoi realizzare una storia importante nella tua vita, diciamo, il target, quindi il target non deve essere mai una persona, ma deve essere una tipologia, una classe di persone, devi definirlo su base logico-razionale, personale. Perché se ti lasci trasportare dalle emozioni, ti trasporteranno nel posto sbagliato. Cioè, il va dove ti porta il cuore è una gran cazzata. Altro errore che devi evitare di fare assolutamente è credere alle puttanate che ha detto quel minchione di Dante, no? che per carità è stato anche un bravo poeta, però ha detto un sacco di puttanate, salutiamo anche Green Apple, soprattutto col suo amorca nulla amata, amar perdona. E non puoi amare per due. L'amore deve essere sempre uno scambio, ci deve essere un'interazione con la persona. Se non interagisci con la persona non riesci a tenere il suo risultato. Poi, ovvio, Dante ha fatto anche delle cose buone. D'altra parte, ecco, quello che si può prendere frutto da Dante è il fatto che lui ha saputo gestire il suo fallimento sentimentale-affettivo col fatto che Beatrice non gliela ha mollata, ma lui ha sfruttato, ha canalizzato queste energie in qualcosa di sublime, se vogliamo. Perché ha scritto la Divina Commedia, questo è un punto fondamentale. Non ha fatto tra uscita frutta, inferno, purgatorio e paradiso. Quindi vuol dire che ogni volta che noi viviamo una, come dire, delusione sentimentale-affettiva, dobbiamo trasformare questa delusione in un successo. E per farlo dobbiamo canalizzare queste energie, non lasciare che implodano dentro di noi. Ovviamente una volta che hai definito il target, hai escluso tutte le persone, oh, un saluto Andrea Giovani, benvenuto, hai escluso tutte le persone che non hanno niente a che vedere con te, questo è fondamentale. devi iniziare a, come dire, interagire, perché la nostra più grande capacità è quella di interazione. Ecco, altro errore che fanno le donne, qui parlo per il malgascione, è quello di credere, diciamo, che serva a spendere soldi, ad esempio, per il look. Non metterti in testa che per sedurre gli uomini siano necessari abiti firmati, borse firmate. Non servono un cazzo. Gli uomini normalmente manco sanno, diciamo, non riescono a distinguere un vestito comprato dai cinesi con un abito firmato. L'importante è che l'abito che sia femminile, insomma, non deve avere un look da stracciona, non deve avere un look, non deve avere un look, che è successo qua? Salutiamo Green Apple, diversamente, l'incendio, perché è stato un incendio a Londra? Ah, non sapevo, non sapevo cosa è stato poi, dopo ne vediamo un attimino. Comunque, non mettetevi in testa che per attrarre gli uomini siano necessari capi firmati. Gli uomini manco si accorgono delle etichette. È ovvio che, diciamo, il look è fondamentale, ma dovete cercare, e questo lo dico, di essere sempre a posto. Ovviamente non uscite mai struccate, ad esempio, quando vedete una persona, ma neanche mettetevi, come dire, le maschere da circo. Questo è assolutamente negativo. Ecco, un'altra cosa per quanto riguarda i capelli, questo vale per le donne ovviamente, gli uomini preferiscono, attirano molto di più, perché voi dovete imparare a stimolare. Dovete imparare a stimolare e dovete imparare a che l'abbigliamento è conforme all'età, perché una donna malgasciona che si mette gli anfibi ai piedi, beh, diciamo, ad esempio, è una malgasciona sfigata, può mettersi tutto quello che vuole. Diverso è se lo fa una ragazza di 20 anni. Questo dipende anche molto dall'età. Il target è fondamentale. Ovviamente i capelli lunghi sono importanti perché, per una questione proprio di ferroormoni, no? Perché muovere i capelli lunghi emana ferroormoni che, secondo alcune teorie, vengono emesse dalle ghiandole sudoripare, diciamo, del collo e quindi i ferroormoni vengono diffusi nell'ambiente. Le malgascione devono essere consapevoli di essere malgascione. Una malgasciona che si veste da ventenne è semplicemente ridicola. Ecco, questo è un qualcosa che dovete evitare di fare, perché, come dire, ognuno poi è libero di fare quello che vuole. Però, però diciamo che è molto importante essere conformi all'età. Non voglio dire che oggi le donne non devono essere femminili, ma bisogna tenere presente. Ecco, un'altra cosa che io escludo, che secondo me è il bacio della morte e della seduzione, è fare uso di silicone. Cioè, donna siliconata, donna sfigata. Il silicone non seduce, secondo me. Certo, può essere utile se vai in piscina, perché hai il galleggiamento migliore, però, di fatto, le rifattone non hanno nessun vantaggio. Quindi, poi gli atteggiamenti sono fondamentali. Ecco, è interessante se uscite con altre donne, trovatevi sempre delle amiche cesse, delle amiche brutte, perché avere delle amiche brutte vi aiuterà quando andate in giro. Perché, e questo è stato anche verificato da diversi esperimenti, l'essere umano percepisce la bellezza o la bruttezza, diciamo, in modo differenziale. Cioè, non esiste uno alto in assoluto o uno basso in assoluto. Perché, come dire, uno di 1,90 è alto o basso? Dipende. Se lo metti vicino a 1,60 è alto. Se lo metti vicino a un 2,10 è basso. Ecco, quindi... Sì, hanno fatto degli esperimenti dove delle donne, la stessa donna... L'esperimento è interessante, fatto da un'università americana. La stessa donna veniva fatta giudicare in una scala di bellezza, era la stessa, uguale, la stessa foto, da 1 a 10. Adesso non mi ricordo esattamente quanto valeva 1. 1 era al minimo, 10 era al massimo, no? E veniva presentata una volta vicino a una donna più bella di lei e una volta vicino a una donna più brutta di lei. Ecco, più i soggetti che davano il voto dovevano dare il voto a lei, non all'altra, no? Veniva fatta vedere una foto dove c'era lei vicina a un'altra. Secondo te questa qua, quanto vale da 1 a 10 come bellezza? e veniva giudicata molto più bella quando veniva presentata vicino alla foto con la brutta. Quando veniva presentata vicino alla foto con la bella veniva giudicata più brutta. Perché la donna era la stessa, non è che era diversa, stessa, stesso vestito, uguale, identica, ma cambiava soltanto il riferimento, no? L'amica... Quindi portatevi delle amiche brutte perché più cesse sono le vostre... Ora, non è che dovete portarvi il mostro di Loch Ness vicino, diciamo, quando andate in giro. Però delle amiche bruttine vi saranno molto utili, ma anche, diciamo, se le mettete nei profili social, no? Se nei profili social, perché è importante avere un profilo social dove, diciamo... dove potete far vedere magari il vostro profilo con delle amiche, così... Mettete sempre delle amiche cesse perché verrete giudicate molto più belle. Se mettete le foto con le amiche strafighe, anche sui social, verrete giudicate brutte, si ingriffano per le vostre amiche e per voi no. Quindi, diciamo, la bellezza è sempre... la bellezza e la bruttezza è sempre differenziale, è sempre relativa, deve essere vista vicino a un'altra persona. Ma non sto scherzando, questi sono studi fatti per cui, ecco, se voi già utilizzate queste strategie riuscite ad attrarre, ad attrarre i maschi. È molto, molto... sembra una cosa banale, ma in realtà è molto, molto utile. Ehm...